A pagina 151 il libro Amaldi spiega qual è il principio di funzionamento fisico che sta dietro al gesto di bere una bibita con una cannuccia. È un po' come il manometro differenziale. Il recipiente collegato al ramo destro di questo tubo AU, una specie di tubo AU, sono i nostri polmoni. Questi sono i polmoni, la cannuccia e questo è il bicchiere pieno di bibita. La pressione atmosferica preme a sinistra. Espandendo la cassa toracica e allargando i polmoni, la pressione dell'aria all'interno dei polmoni diminuisce. Quindi l'aria dei polmoni preme con meno pressione sul livello del liquido, perciò il livello del liquido si alza dalla parte dove c'è meno pressione. Perché l'aria nei polmoni è una pressione minore di quella atmosferica esterna. Esattamente come funziona in questo disegno dove la pressione all'interno di questo recipiente, la pressione del gas, è minore della pressione atmosferica.